Le forte dell'ordine stanno lavorando per liberare le strade dagli alberi che sono stati sradicati dal vento, i vacanzieri per recuperare ciò che resta delle vacanze nei campi incolpiti dalla tromba d'aria che si è abbattuta il 10 agosto sul litorale veneziano. Un forte vento discendente accompagnato dalla pioggia. Si è fatto tutto nero, completamente nero, buio, non si vedeva niente e è iniziato questo forte vento e niente, è avvenuta questa tromba d'aria fortissima. Si contano 48 feriti, di questi 45 sono stati dimessi e 3 risultano ricoverati. Il Presidente della Regione ha firmato lo stato di crisi.